In un comunicato stampa, Fisi Sanità annuncia lo sciopero dopo le azioni scellerate. Ospedali prefabbricati e sperpero di danaro pubblico, si legge nella nota, rimodulazioni ospedaliere all'ultimo dei moicani, blocco di tutte le prestazioni sanitarie, progetti obiettivi pagati senza alcuna contrattazione ad amici ed amici di amici, insomma, una gestione che si è dimenticata dei veri eroi, infermieri, medici e OSS, a cui non ha riconosciuto nulla e pensa a fare politica con i soldi dei cittadini mai più ultimi, esclamava qualcuno, abituato a fare proclami e spot elettorali ed intanto con le sue azioni e le azioni dei suoi direttori generali, di nomina politica e fidati delfini, distrugge la sanità pubblica, regala soldi alla sanità privata, riconoscendo convenzioni d'oro e dichiarando dati falsi sui numeri dei posti letto di terapia intensiva esistenti in Campania, pur di uscire dal piano di rientro e dimostrare di aver salvato il mondo. Siamo di fronte a megalomani con mania di grandezza, con il portafoglio dei cittadini ed a costo della vita degli operatori sanitari che non hanno nemmeno avuto i dispositivi di protezione individuale. Una vergogna senza fine. Queste le parole di Rolando Scotillo che continua, oramai si va verso la dichiarazione di sciopero, in questi giorni provvederemo a farla, ormai questi signori non si confrontano con nessuno, operano in modo scellerato sulla pelle dei lavoratori e degli utenti cambiando le regole del gioco continuamente ed utilizzando danaro pubblico per fini poco chiari. Intanto nel silenzio assordante della politica locale l'ospedale di Eboli viene annullato nelle sue prerogative di ospedale specialistico di tipo generalista. Oramai ai cittadini è vietato accedervi, non ci sono più parole.